L'atmosfera giusta, le cose buone, gli amici, la simpatia, i momenti felici. Café de Paris, quando vuoi fare una pausa, per una piacevole parentesi a tutte le ore, per incontrare i tuoi amici. Caffetteria, lounge bar, le dolci bontà della pasticceria, aperitivi, confetteria. E quando assapori le nostre specialità, senti la differenza, perché è tutto di nostra produzione. Café de Paris, l'accogliente saletta con posti a sedere, lo spazio esterno. Pensaci per le tue feste di compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza. Café de Paris, via Lembo 159, Melito Porto Salvo, info 339 72 45 433.